Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario è filosofico, ovviamente! Oggi è il 26 dicembre 2021, altresì comunemente detto nell'italico suolo Santo Stefano. E questa è la frase del giorno, lasciate che ve la legga. Una delle cose più belle nella vita è trovare qualcuno che riesce a capirti senza il bisogno di dare tante spiegazioni. Khalil Gibran, poeta, pittore e filosofo libanese. Eh, ma dei tempi che furono, è nato nel 1883 ed è oltrepassato nel 1931. Altri mondi, c'è quest'uomo, non ha visto la seconda guerra mondiale. Insomma, non ha importanza, dicevo così, per essere un po', per contestualizzare un po' il pensiero dentro, storicamente, dentro la vita di questa persona, ma non ha importanza perché una cosa è vera indipendentemente da chi la dice. Non di meno è sempre meglio, è sempre meglio contestualizzare un pochettino per non cadere in fallaci ed erronee interpretazioni. D'altra parte, la frase di oggi è molto sui generis, è molto comune, su un genere comune, perché, insomma, quando uno pensa a un filosofo libanese nato nel 1883, morto nel 1931, chiaramente inizia a pensare a un altro tipo di mondo, a un pensiero distante da quello di noi, contemporanei, però, insomma, con la frase di oggi siamo veramente estemporanei. Perché? Perché sono diversi millenni che siamo circondati da stronzi, ok? Soprattutto, lo riconosciamo, soprattutto durante le festività di Natale, che siamo praticamente costretti a frequentare la più bassa lega dell'umanità, la famiglia, il cugino stronzo, ok? Un saluto a tutti i miei cugini, ma non quelli stronzi, quelli buoni, ok? Questo semplicemente per dire che, insomma, chi è che ci capisce meno se non la nostra famiglia? Non è una condizione assoluta, è una condizione diffusa nel mondo occidentale, praticamente la famiglia vera è fatta di persone con cui scegli di stare, mentre poi la famiglia con cui ti riunisci a Natale, eccetera, praticamente sono le persone che ti è capitato di avere per genia vicine e che poi il resto dell'anno non le vuoi frequentare perché, insomma, non sono persone affini e persone a cui praticamente devi spiegare perché stai, stai... perché esisti, cioè perché fai quel che fai, perché esisti, perché ti piace quello che ti piace e non riesci a farti piacere qualcosa che non ti piace, ma non puoi smetterla di rompere il ca... ok? Insomma, io sono personalmente ormai sono molto distante da queste riunioni familiari, sofferenti, eccetera, però le ho vissute, le ho vissute, sono felice di esserne uscito, felicissimo, perché veramente devi sempre spiegare tutto a tutti, eccetera, e lì dici, no, ma sai, devo farmi la psicanalisi per spiegarti perché mi piace vestire questo colore, no? Perché la zia non lo capisce, perché ovviamente pur essendo nata durante il 68, ha la mentalità... non mi viene da dire, non posso dire ottocentesca, perché Khalil Gibran era dell'ottocento ed era avanti come uno della generazione alfa, che non sono manco nati quelli dell'alfa, nascevano dal 2023 in poi, che vi devo dire? No, non è una questione culturale, non è una questione generazionale, è che certa gente esiste proprio per vivere con i paraocchi ed essere ottusa, e quindi gli devi spiegare tutto, gli devi spiegare perché ti piace la musica, che ti piace, che poi ovviamente il piacere non va spiegato, cioè il piacere va vissuto, non va spiegato, però arriva sempre quella zia che non capisce niente e le devi spiegare tutto, no? Cioè è sempre una zia, è sempre una zia, sempre, questo... c'è sempre almeno una zia così, poi fossimo... io non lo so come mai, poi vabbè c'è anche lo zio che è un po' bacchettone, no? C'è sempre lo zio bacchettone, però a me piace vedere un po' come praticamente questi stereotipi si declinano in tutte le forme, no? C'è il cugino, c'è il cugino ritardato, lo zio bacchettone e la zia ottusa, i nonni razzisti, ce n'è per tutti, però che famiglia! Che santi Dio! Comunque sì, volevo interpretare in tema familiare natalizio questa frase, però ovviamente c'è il dramma dell'amicizia, no? Cioè io più di ogni altro ho visto, ho visto gente che frequenta altra gente in amicizia per abitudine, per abitudine, no ma sai ci frequentiamo perché siamo cresciuti insieme, però alla fine odio tutto quello che fa e tutto quello che è, tutte le sue opinioni politiche, eccetera, eccetera. Voglio dire, cioè, alla fine c'è un sacco di amicizia tossica e tutta questa negatività, tutta questa tossicità esce durante le feste, perché le feste sono una sorta di purga, sono una purificazione, perché durante le feste il mondo, la vita, la società, il tuo cuore ti dice ok, guarda, è tutta la vita che vai appresso a queste persone, che festeggi a queste persone, almeno hai il coraggio di vederti con quelli che ami veramente, anche se non riesci a vederli mai, perché stanno a due, tre ore di distanza con la macchina, eccetera, eccetera. E cavolo, cioè questo è il vero spirito del Natale. Confrontarsi con le persone tossiche e poi scegliere comunque di riconoscere che la famiglia è fatta di quelle persone con cui scegli di stare. E quindi a tutta la mia famiglia, arcobaleno, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, anche voi siete la mia famiglia, perché scegliete di vedere i miei video, che è una cosa incredibile. Io chiaramente sono come voi, sono un perfetto nessuno che semplicemente ha l'hobby del vlog, perché ho l'ascendente in leone e ho giove in leone, quindi che cacchio io devo dire, più di così. Grazie per l'attenzione, grazie per la visione, buon Santo Stefano. Se il video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e cliccare sulla campanella. Distruggetela con la campanella! Per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video, per il resto io, come sempre, vi auguro il meglio, e sono il meglio, e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!